Quattro giorni di spettacoli, performance, laboratori, tutti dedicati al teatro e alla creatività dei ragazzi. Torna anche nel 2014, dal 15 al 18 maggio, il classico appuntamento con il Maggio all'infanzia a Bari, ospitato quest'anno dal Teatro Kismet e dalla neonata Officina degli Esordi, il laboratorio urbano che ha sede nell'ex autosilo di Via Crispi. Il menù quest'anno propone un programma sicuramente molto ricco, come negli anni passati. La novità di quest'anno è che il Maggio all'infanzia occupa sempre, oltre al Teatro Kismet come luogo, anche degli spazi in città sempre diversi, Piazza Diaz del Lungomare, piuttosto che il Centro Storico. Quest'anno la grossa novità è che appunto una parte delle attività del programma si svolgeranno all'Officina degli Esordi, che è questo spazio nuovissimo e bellissimo in Via Crispi, quindi in un quartiere centrale e popoloso della città, che il Kismet gestisce insieme ad un'altra associazione che si chiama Bass Culture, e che quindi quest'anno diventerà il luogo del paradiso dei bambini, il luogo in cui i bambini potranno esprimersi liberamente, facendo attività manuali, laboratoriali, creando, incontrandosi e soprattutto anche vedendo spettacoli. Gli spettacoli si svolgeranno quindi all'Officina degli Esordi, in parte quelli per i bambini più piccoli, per la fascia d'età proprio dei nidi, primi anni delle scuole materne, e invece gli altri spettacoli al Teatro Kismet. Gli spettacoli in tutto sono una ventina per circa 25 repliche, quindi dal giovedì pomeriggio fino alla domenica pomeriggio, e poi ci sono anche i debutti nazionali delle compagnie più pugliesi, e anche molti debutti regionali di compagnie che vengono dalla Toscana all'Emilia Romagna, al Lazio. Insomma, come al solito, diciamo, si cerca di presentare al maggio quello che è il meglio delle produzioni nuove del teatro per ragazzi.